Buongiorno, sono le 12 ed è il momento dell'informazione, vediamo subito i titoli di questa edizione. La politica è stato affidato a Giuseppe Conte il mandato per formare un nuovo governo, oggi stesso al via le consultazioni con i partiti. Migranti, il governo uscente tiene i porti chiusi, rimane ancora in acqua internazionale dunque la nave Mare Ionio con a bordo 100 migranti. Cinema, è il giorno di Pedro Almodovar al Festival di Venezia, la Laguna consegna al regista spagnolo il Leone d'Oro alla carriera. Dunque c'è la politica, ovviamente in primo piano Giuseppe Conte ha accettato l'incarico di formare un nuovo governo, oggi ma con riserva. Comincerà oggi stesso a sentire i partiti addetto per recuperare il tempo perso. Augusto Cantelmi Buongiorno a tutti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il governo, incarico che ho accettato con riserva. Dal governo del cambiamento al governo della novità, un governo per e non un governo contro, così il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio con il Capo dello Stato con il mandato accettato con riserva di formare il nuovo governo, un Conte 2.0. Realizzerò un governo nel segno della novità. È quello che mi chiedono anche le forze politiche che hanno annunciato la disponibilità a farne parte. È questo il momento di una nuova stagione, un'ampia stagione riformatrice di rilancio, di speranza, che offra al Paese risposte e anche certezze. Ora qualche giorno a disposizione per il Premier incaricato, prima di sciogliere la riserva, nel pomeriggio alla Camera le consultazioni con le forze politiche. Quindi lunedì dovrebbe tornare al Quirinale con la lista dei ministri. Le delegazioni PD 5 Stelle intanto si riuniscono ancora per mettere a punto il programma condiviso, mentre la partita si complica, soprattutto per quanto riguarda la squadra. Resta il nodo di Maio sulla vicepresidenza. Il PD è contrario, mentre il voto sulla piattaforma russo potrebbe essere depotenziato attraverso il quesito che non riguarda più l'alleanza con il PD, ma il programma tensioni tra Lega e 5 Stelle dopo la rivelazione di Maio sull'offerta fatta da Salvini di offrirgli la presidenza del Consiglio in cambio di un ritorno al governo giallo-verde. Il ministro uscente, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Mare Ionio, la nave umanitaria che ieri ha soccorso e preso a bordo 100 migranti. Ora si attende il destino delle persone che sono a bordo dell'imbarcazione. Sentiamo Massimiliano Niccoli. Ho firmato il decreto interministeriale sul divieto di sbarco perché tecnicamente dal punto di vista militare non vi erano ostacoli. Inizia così il post su Facebook del ministro della difesa Elisabetta Trenta che poi sulla vicenda legata alla Mare Ionio attacca Salvini. Credo, scrive la Trenta, che il ministro dell'interno non possa mai travalicare e azzerare il sacrosanto diritto di bambini, donne in gravidanza, ammalati o persone in difficoltà di essere soccorsi. Il soccorso a queste persone diventa diritto d'ingresso perché a fianco del decreto sicurezza sono vigenti per fortuna norme che lo impongono. Si tratta di principi sacrosanti. La vicenda è relativa alla nave di Mediterranean Saving Humans che a soccorso è preso a bordo circa 100 migranti, fra cui appunto diversi minori e donne incinte, su un gommone alla deriva e per la quale Salvini ha ordinato il divieto d'ingresso in Italia. Il salvataggio è avvenuto all'alba, circa 70 miglia a nord di Misurata. Avvistati sul radar alle prime luci del giorno, i migranti provenienti da Costa d'Avorio, Cameron, Gambia e Nigeria sono stati trasportati tutti a bordo del rimborchiatore dopo un'operazione durata più di due ore. Precare le condizioni in cui versano, come dimostrano le immagini girate dall'inviato di avvenire nello scavo che si trova a bordo della nave. Decisive le prossime ore. Parliamo invece adesso di Brexit. La regina e il premier Johnson decidono di sospendere l'attività parlamentare e il popolo insorge, raccolte in poche ore oltre un milione di firme, manifestazioni e cortei previsti in tutto il paese. Silvia Sacchi Ha scatenato un putiferio politico e di piazza non da poco la clamorosa mossa di Boris Johnson. Il premier dei Tori sfida tutti e chiede di prorogare la sospensione dei lavori di Westminster fino al prossimo 14 ottobre. Non l'hanno presa bene i cittadini, facendo scattare una petizione popolare che in poche ore sul web ha raggiunto oltre un milione di firme. Quello di Johnson per molti sarebbe un tentativo estremo di mettere definitivamente fuori gioco gli oppositori al no deal, che è calendario alla mano, avranno pochissimo tempo per cercare di fermare la corsa verso il no deal. Tempo durante il quale dovranno provare ad alzare le barricate con due sole strategie possibili. O quello di una legge pro rinvio dall'incerto potere vincolante che tenti di vietare al governo un traumatico taglio netto dall'Unione Europea, o quello di una mozione di sfiducia che Corbyn promette al momento opportuno. Iniziativa quella della sospensione che la regina alligia ai limiti di una monarchia costituzionale non ha potuto far altro che approvare e su cui ha posto la sua scontata firma malgrado gli appelli e le richieste di incontri urgenti ricevute dal capo dell'opposizione lavorista Jeremy Corbyn e da quella liberal-democratica Swinson. A Hong Kong adesso, dove la polizia ha vietato la manifestazione in programma per sabato, troppo rischiosa secondo il governo che da settimane prova a tenere a bada le proteste. È la prima volta che un evento organizzato dalla sigla Civil Human Rights Front, una tra le più attive nelle proteste antigovernative, riceve una indicazione del genere. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali dei tre poliziotti di Hamas, uccisi in due esplosioni avvenute ieri sera in alcuni posti di blocco a sud di Gaza City. Le indagini sono ancora in corso, le forze di sicurezza però hanno riferito di aver identificato già due kamikaze. Dopo l'attacco, che ancora non è stato rivendicato da nessun gruppo, nella striscia di Gaza è stato dichiarato lo stato di emergenza. Un'altra guerra invece che rischia di esplodere è quella informatica, un mondo, quello del cyberspazio, dove non ci sono morti e feriti, ma danni, danni a volte anche pesanti a livello economico. E anche su questo hanno riflettuto gli hacker di tutto il mondo, che sono riuniti proprio in questi giorni a Berlino. Luigi Ferragliolo. In nessun altro posto al mondo si capisce come sarà la società del futuro se non al Chaos Communication Camp, il meeting hacker più grande d'Europa, che si svolge ogni quattro anni in Germania. Quest'anno si è tenuto al Mildenberg Brickwork Park, un'ex fabbrica di mattoni diventata museo, un'ottantina di chilometri a nord di Berlino. Sono stati in 5.000 a invaderla, trascorrendo sei giorni insieme, dormendo in tende e roulotte nelle vicinanze. Esistono altri raduni hacker importanti, anche molto più raffinati tecnologicamente, ma questo è quello più colorito e capace di individuare le tendenze future. Quello che anche le multinazionali, in incognito, feguono per capire dove tira il vento. E il nostro avvenire, secondo il verbo del Chaos Camp, sarà tutto improntato alla biomedicina e alla difesa della riservatezza, della privacy. Infatti andando in giro per il campo si incontravano tantissime persone cariche di appendici elettroniche. A partire dal badge dello stesso meeting, uno smartwatch ricco di sensori. E poi c'erano ragazze che portavano con sé tastiere adatte anche alle nocche delle mani, per chi le ha troppo piccole. Oppure pollici elettronici fatti di plastica fai da te, costruiti direttamente nel raduno. L'altra tendenza che è venuta fuori con forza è quella della riservatezza, della privacy, per evitare che pochi grandi giganti possano controllare tutta la rete. E allora corsi e seminari su come evitare di essere controllati, ma soprattutto l'attenzione alle reti decentralizzate, come la rete mesh tedesca, per evitare di rimanere ostaggio di internet. Nei prossimi anni dunque prepariamoci. Bionica e reti alternative a internet saranno le nostre future parole d'ordine. Svolta nell'omicidio di Bologna, nella notte la polizia ha arrestato una persona accusata di aver ucciso Nicola Rinaldi, ragazzo di 28 anni, accoltellato ieri mattina in Via Frati, zona pilastro a Bologna. Si tratta di Luciano Listrani, 58 anni, vicino di casa della vittima e fin da subito principale sospettato del delitto. Quarta giornata di ricerca invece per la coppia di amici scomparsi in provincia di Piacenza. Da domenica lui, 45 anni, lei 28, da quattro giorni non si hanno loro notizie. Il soccorso alpino, in accordo con i carabinieri che coordinano le operazioni, sta setacciando le zone boschive più impervie. In arrivo c'è anche un elicottero della polizia che cercherà dall'alto segnali di vita. Greta Thunberg invece è sbarcata a New York dopo la traversata verde e ha attaccato subito. Il presidente Donald Trump rifiuta la scienza, ha detto la giovane attivista svedese accolta negli States come una star. Silvio Vitelli. I sostenitori la clamano come una star al suo arrivo a New York dopo una traversata di 15 giorni a bordo della barca a zero emissioni di Pier Casiraghi. ad attendere Greta Thunberg 17 barche a vela dell'ONU, una per ciascun obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il viaggio è andato sorprendentemente bene, ha dichiarato. Non ho sofferto mal di mare neanche una volta. Eppure la 16enne svedese è apparsa stanca e per sua stessa missione particolarmente confusa. A chi giudica eccessivo il suo esempio ecologista risponde ovviamente non voglio che tutti attraversino l'Atlantico a bordo di una barca a vela come ho fatto io. Anche perché, fanno sapere dall'equipaggio, diverse persone dovranno ora volare da Monaco a New York per far tornare in Europa l'imbarcazione. Dichiara che non incontrerà il presidente Trump. Il mio messaggio per lui è ascolta la scienza. Ovviamente lui non lo fa e io non sono in grado di convincerlo. Commenta infine gli incendi in Amazzonia. Ci fanno capire che non possiamo rimanere immobili. Nel corso del weekend è atteso un vero e proprio ribaltone delle condizioni meteorologiche. Passeremo direttamente dal sole a un'ondata di temporali anche forti. La protezione civile regionale siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo valido fino alla mezzanotte di oggi per rischio idrogeologico. Di livello giallo ieri sera infatti a Palermo c'è stato un fortissimo temporale. 28 anni fa veniva ucciso dalla mafia. L'imprenditore Libero Grassi fu ammazzato a colpi di pistola proprio nel centro di Palermo il 29 agosto 1991 mentre si stava recando nella sua azienda. Si ribellò alle estorsioni ma fu anche vittima dell'isolamento a cui fu relegato proprio per aver denunciato. Palermo oggi lo ha ricordato. Stamattina in via Vittorio Alfieri infatti è stata deposta una corona di fiori. La figlia Alice al termine delle celebrazioni ha detto dispiace l'assenza dei cittadini. A questa commemorazione sono ancora molti. ha denunciato coloro che pagano il pizzo. Ed è morto il cardinale Achille Silvestrini, 95 anni, prelato che per anni è stato ai vertici della diplomazia vaticana, stretto collaboratore dei segretari di Stato Domenico Tardini, Amleto Giovanni Cicognani e dell'arcivescovo Agostino Casaroli nel periodo della Guerra Fredda. Andiamo adesso a Venezia dove ieri è cominciata la 70esima e 76esima edizione del festival del grande cinema grande successo per la serata di apertura. Oggi invece tre protagonisti di eccellenza dalla Laguna. Fabio Falzone. Venezia 76 si risveglia e devo dire che questa edizione della mostra è partita molto molto bene. Tantissimi minuti di applausi per il film di apertura, La Verité di Coretta, ma soprattutto per le sue protagoniste. Caterine De Neve e Juliette Binoche che hanno illuminato il tappeto rosso sono state accolte ieri sera dall'abbraccio dei fans e sono state accolte da un applauso fortissimo anche in sala. Con loro la madrina Alessandra Mastronardi, elegantissima. Tante le presenze degli italiani ieri sera sul tappeto rosso. Tony Servillo che in queste ore è a Venezia per presentare il suo film che passerà proprio oggi, alle giornate degli autori e poi Paolo Virzi che fa parte della giuria. Sulla giuria sul tappeto rosso sono sfilati proprio tutti i componenti della giuria compresa Lucrezia Martel che ieri la presidente di giuria appunto per le sue dichiarazioni ha fatto un po' discutere. Poi tantissime modelle, la figlia di Lionel Ricci, Mel Bive, la ricordate? La componente delle Spice Girls, veramente non è mancato nessuno. Nelle prossime ore arriverà anche l'influencer Chiara Ferragni. Ma oggi ci sono veramente tre big qui alla mostra perché è il giorno del leone d'oro alla carriera a Pedro Almodovar. Brad Pitt è già arrivato per il suo film ad astra e quindi c'è un entusiasmo dei fans. Li vedete sono già calcati alle mie spalle, ci sono delle misure di sicurezza oggi fortissime. E poi c'è Scarlett Johansson con il film Marriage Story. Come nasce e come finisce una storia d'amore. Un film molto molto emozionante. Quindi davvero, mai come quest'anno Venezia, di tutto, di più. La perdonanza celestiniana dopo la veglia di questa notte all'Aquila oggi ci sarà la chiusura della Porta Santa. Una giornata caratterizzata da tante novità. Come ci dice dal capoluogo abruzzese Clara Iatosti. Sono entrate nel vivo le celebrazioni della perdonanza celestiniana. Con i giovani, i lavoratori, le forze armate dell'ordine, i catechisti e le famiglie, Aquilani e Pellegrini si sono ritrovati assieme in preghiera nella Basilica di Collemaggio. Alle 15.30 il giubileo dei malati e delle confraternite. Poi il corteo storico e con i vespri la chiusura della Porta Santa. La bolla del Papa Eremita, datata 1294, è qui. Segno tangibile e testimone da oltre 700 anni di un messaggio di pace, solidarietà e riconciliazione. L'Italia, con il coordinamento tecnico del Ministero dei Beni Culturali, ha deciso la candidatura della perdonanza a patrimonio materiale dell'umanità. Ora siamo in un momento, diciamo, topico, proprio perché questa è l'ultima perdonanza prima eventualmente del prossimo comitato intergovernativo della Convenzione UNESCO, nel quale forse verrà appunto iscritto la festa della perdonanza celestiniana nella lista rappresentativa del patrimonio dell'umanità. Questa comunità che ha superato un momento difficilissimo è riuscita a ritrovare nella perdonanza la forza, si dice anche la resilienza, ma io direi anche la fede e lo spirito, per riuscire a rinascere. E quindi questo anno è dedicato alla rinascita, è dedicato alle nuove generazioni e questo penso sia il fulcro della nostra candidatura. Il telegiornale finisce qui, tutti gli aggiornamenti alle 18.30. Grazie per averci seguito, buon pranzo.